I nuovi servizi offerti dall'Informa Giovani Multitasking hanno preso il via. Il primo incontro tematico è stato tenuto dalla nota blogger bolognese Panza all'aria sul tema del personal branding. Inoltre lo sportello d'ascolto psicologico a cura di Jonas ha iniziato la sua apertura settimanale presso l'Informa Giovani. La mia strada è nata per passione. Io mi sono laureata in lettere e filosofia nel 2000 e in quel periodo collaboravo con una delle prime riviste di informatico-umanistica dell'Università di Bologna e ho avuto proprio una sorta di amore a prima vista. Quando ho incontrato il web ho capito che era la mia strada. Col tempo per fortuna si è andata affermando anche il ruolo e l'importanza di chi si occupa e cura i contenuti e la comunicazione all'interno di un progetto web e io mi sono posizionata in quel settore. A un certo punto ho deciso di aprire un blog per caso, Panza all'aria appunto, un blog che è nato come momento di svago in realtà dal lavoro. E se fino al 2008 assolutamente ero anonima e se andavo a un colloquio assolutamente non dicevo di essere una blogger, poi ho capito che in realtà l'essere blogger diventava un plus rispetto ad altre caratteristiche anche in termini professionali. Allora, il primo consiglio è studiare perché sembra sempre molto facile lavorare con la rete, adesso è alla portata di tutti, ma in realtà serve un grande studio, un grande lavoro di cesello, ascoltare ciò che accade, condividere e raccontarsi in maniera differenziata. Buongiorno, sono la dottoressa Doriana Di Dio del centro Dedalus di Jonas, sede di Bologna. È un centro di psicanalisi per il disagio giovanile. Ci occupiamo appunto di vari disturbi, i cosiddetti nuovi sintomi, quindi dai disturbi alimentari, gli attacchi di panico, alle dipendenze, la dipendenza da internet, al disagio familiare. E abbiamo con Flash Giovani una collaborazione dal 2008. Proprio per le numerosissime mail che sono arrivate in questi anni allo psicologo online, si è pezzato, insieme a Flash Giovani e Informa Giovani, di creare uno spazio reale, qui proprio nella sede di Informa Giovani, dove i ragazzi possono avere un primo incontro con uno psicologo. Non ci sarà qui all'Informa Giovani un setting, come ce lo si può immaginare, ma sarà un ambiente assolutamente informale per orientare la domanda dei ragazzi e dare informazioni sui servizi presenti sul territorio. Lo spazio è assolutamente privato, nel senso che avviene uno ad uno, con il ragazzo che domanda un colloquio, e durerà circa 30 minuti. Crediamo che offrire uno spazio all'interno dei luoghi dei giovani sia un modo per cercare di avvicinarci a loro, quindi lo psicologo esce dallo studio privato per cercare di essere più vicino e che il ragazzo possa più facilmente entrare e chiedere aiuto quando ce n'è bisogno.